oggi c'è la possibilità di fare riprese in hd e full hd con tutti i dispositivi videocamera fotocamera smartphone tablet a voi la scelta unica avvertenza se usate smartphone o tablet fate le riprese posizionandoli in orizzontale avete scelto bene allora iniziamo innanzitutto elaborate un'idea uno spot deve essere breve 45 secondi al massimo ma efficace deve trasferire un messaggio chiaro e colpire il pubblico che lo guarda create un claim ossia uno slogan da abbinare al progetto impostate uno storyboard una sequenza di scene con indicati protagonisti e le azioni che essi svolgeranno tranquilli non occorre essere illustratori bastano solo alcuni schizzi e brevissime indicazioni sulle scene e i dialoghi a meno che non abbiate scelto di realizzare uno spot mutuo solo con titoli e una base musicale nella storia della tua idea d'impresa ce ne sono stati e alcuni molto efficaci l'audio è importantissimo si deve sentire e capire quello che dite se potete usate un microfono in caso contrario tono della voce alto e riascoltate se necessario rifate la scena prestate attenzione anche alle riprese devono essere stabili il più possibile se siete alle prime armi privilegiate tante inquadrature fisse piuttosto che riprese in movimento la dinamicità potrete conferirla voi in fase di montaggio finite le riprese importate i file tramite cavo scheda sd o wifi per il montaggio del video potete usare il software del dispositivo che userete che sia mac pc o smartphone la base musicale è molto importante utilizzate brani originali realizzati da voi o da vostri amici o affidatevi alla libreria free di youtube accedervi è molto semplice andate sul sito cliccate su il mio canale gestione video crea ci siamo quasi ogni spot dovrà avere in grafica scritto in stampatello maiuscolo il titolo del progetto la classe la scuola e la città qui in basso a destra ecco così infine la mosca ovvero il logo di la tua idea d'impresa come lo vedete qui in basso a sinistra il file ve lo forniremo noi terminato il montaggio esportate il video in formato mp4 o.mov a questo punto potete inviarci lo spot collegatevi a www.wetransfer.com scrivete il vostro indirizzo email il nostro ovvero info chiocciola la tua idea d'impresa punto it allegate il file e inviate riceverete una conferma di avvenuto download e nelle date indicate da regolamento vedrete online il vostro spot ed ecco adesso alcuni esempi delle edizioni passate se ti trovi in mezzo al fanghe crampi non abbandonarti bisogna illuminare per guardare un po' avanti pedali per farti luce se smetti non si riduce tutto questo ero io quella prima che scaricassi la nuova app formidabile ma sta scarichela anche tu recupera la materia prima premi al cittadino virtuoso lalu compact utilizza componenti commerciali un set di sensori